Il teatro non potrà riaprire a fine marzo come inizialmente indicato, tuttavia il sovrintendente Andrea Cigni del Teatro Ponchielli ha buone speranze che il pubblico possa tornare ad aprile con una nuova zona gialla. La macchina è al lavoro nella speranza di ripartire questa volta senza ulteriori stop. Purtroppo le notizie non sono ottime per quanto riguarda l'immediato, nel senso che non verrà rispettata la data del 27 marzo per una riapertura. Ma già lo sapevamo, nel senso è stato un annuncio molto bello, ci abbiamo sperato tutti, forse per primo il ministro, ma non sarà così, nel senso il 27 marzo purtroppo non saremo aperti al pubblico, saremo aperti con delle iniziative come teatri ovviamente perché è la giornata mondiale del teatro, quindi avremo delle iniziative organizzate senza pubblico, quindi non aperte al pubblico. E poi la riapertura speriamo avverrà con la primavera inoltrata, per cui credo nel mese di maggio. E quindi ci stiamo organizzando per quell'appuntamento. Le scadenze sono già tutte stabilite per quanto riguarda le scadenze ministeriali, eccetera, ma dobbiamo aspettare intanto l'andamento della vaccinazione. E poi speriamo che i numeri della pandemia migliorino e che nello specifico per la Lombardia sia una zona gialla, almeno per poter riaprire con un contingentamento dei posti al pubblico. Zona gialla si potrà riaprire, adesso il decreto prevede 200 posti, noi ne abbiamo 1200 circa, 200 posti negli spazi al chiuso e 400 negli spazi all'aperto. Spero che magari una deroga della regione o comunque sia una maggior coerenza con la realtà, perché poi effettivamente 200 persone nello spazio da 1200 sono veramente molto poche. Noi possiamo garantire in sicurezza sicuramente numeri più grandi. Speriamo di riaprire con un po' più di pubblico e magari prima del previsto.